Salve a tutti i ristori, qui è MiniDestroyer e siamo tornati su un nuovissimo video di Minecraft. Oggi andrò a spacchettare un paio di kei, adesso ho un pochino spacchettato, ho trovato questi pantaloni, 2 smeraldi, 4 meloppi e 33 lingotti d'oro. Allora, intanto partiamo, vediamo. Ti prego la spada, mi serve una spada OP. No, non questo. No, diamanti. Non ne faccio una causa, ma non è che mi serve tanto. Adesso a me serve soltanto armor e spade. Cibo, bello OP, vabbè, me lo OP anche. Troviamo del cibo, mangialo. Del pane. Bello, del pane. Ci puoi fare di tutto, ti puoi farmare un milione di soldi, tutto. Adesso vediamo. Dai, una spada bella. Sì, una spada, una spada. Ok. No, che cazzo. No, no, un armor. Vediamo. Au. Ti ho caccato. Ecco io. Ecco io. Ah. Beh, si è bugato il server. Come sempre, non c'è una volta che non si bugga il server del cavolo. Non fatemi dire cose brutte del server, ma comunque... No. Non è possibile. Vale. Aperli qua. Che abbiamo. Stivali di diamanti. Angli. Che cazzo di incantamento. Boh, non lo so. Non so come cavolo si chiama. Vabbè. Dai, 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 dai. Vediamo che ci dà questa game. Ci dà del pane. 14 melopi. Ma ve le give. Give a voi. Ti è a chi li serve. Forse li spawneranno, vabbè. Non lo so. Tanto a me non serve del pane. Del mele d'oro e basta. Non mi servono un cavolo. Dai. Che ci troviamo. Ok. Clicca. Che cavolo ci abbiamo trovato. Una zappa. La vita. Facciamo tutto con la zappa. Sarà la zappa quella che spara. Va bene. Ma... Questa che cazzo serve. Vabbè, cose inutile. Le cose inutili le abbiamo trovati, di sicuro. Però vorrei una spada one shot adesso. Vale. Che abbiamo trovato... Cosa? 24 diamante. Buono. No, give anche i smeraldi e... Lingotti. E lingotti di... Oro. Perché tanto mi servono mai un cazzo. Anche quelli. Dai. Fammi trovare una cosa di... Una cosa bella. Perché non ti... Perché non va? Che spada è? Poison. Buono. Poison è buono. Poison l'inchianto. Che meglio. Poi la miglioro. Poison è buono. Buonissimo. Fermi... Una deep ones. Come cavolo si chiamava. Che è una spada tipo... One shot è già iniziata. Dei tesori. Che cazzo ci dà? Adesso. Della pietra rossa. Me l'ha inficconto il culo. Pietra rossa. Non mi serve un cazzo. Give away. Give away smeraldi e oro. Mi servono un cavolo. Quindi non mi piace. Stanova dai. Arma. No. Spade. Dai spade. Bu. Che mi dà? Piccozza di ferro. Qui in su. Come... Vabbè dopo vado a testarla. Questa ancora non la metto. Non... La butto. Ok. Apriamo con queste. Ultime 5... No. Dai. No. Facciamoci... 15k. No dai. C'è. 5. 5. Se andò troppo lungo il video. Ok. Uh spada. Sì. 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 Dammi una spada potente con la Sproison. Dai. Perché non mi... Perché non mi spaccetta. Vediamo. Vediamo. Vediamo sta spada. Fottutissima. Com'è. Bui. Oddio. Questa è fortissima. Aspetta. Eh... Aspetta. Devo provarla su qualcuno. Mi sembra che immobilizza una roba del genere. Ok. Dai dai dai. Dobbiamo trovare una fottuta... Devo fare un completino di armor. Almeno. Cibo no. Un altro piccone che non mi servirà un cazzo mai nella vita. Che mi ha dato? Non mi ha... Non mi ha spacchettato. Raga. Mi ha spacchettato. Che mi ha dato? Mi ha dato un'accetta. Picchio. Un'accetta mi serve un cavolo. Senti te la give. Te la give. To zio. Zio. C'è la sua. To give te la. Dai. Arriviamo a 20k. Anzi no. 5. Eh... Le ultime 5 raga. Armor. Sì l'armor. Vediamo. No. Vabbè. Affanculo. Tua madre. Tua madre. Oddio. Oh no no no. Piccone lo devo provare. Devo provare. Ender shift mi sembra che è buono. Ok. L'ender shift dovrebbe essere buono. Spacchettiamo. Al... Eh... Ok. Ultime 4. Spacchettato eh oggi. Raga. Comunque ringrazio Feffi che mi ha dato un po' di key. Uh... Spada. Spada è buono. 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 Spada. Dai dai dai. Dammi una di pounds. Eccola. Dai. Dai che ci faccio... Che mi faccio piena di spade. Charge. Charge. Che cavolo fa? Non fa un cazzo di niente. Grazie. Però se la miglioro. Come dico io. Se la miglioro dovrei... Eh... 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 Raga. Sono spariti. No. Ah ecco. Penso che erano spariti. Ma è più caro. Non pensiamo al peggio. No. Io non voglio. Ok. Che mi ha dato? Che mi ha dato? Fammi vedere. Che cazzo mi ha dato? E' cibo. Tanto per... Ah c'ho due cibo. Ah. Eh... Mi so accorto manco. Uno. Che mi ha dato? Un mio lop. Ok. Grande. Undici me le do. Give... Give away to. To man. Pia ti sta roba schifosa. Ok. Intanto. My bro diventa gay. Hashtag my bro diventa gay. In chat. Nella chat. Mettete. Hashtag my bro gay. Comunque. Mi sto facendo un po' un pieno di armature. Di cibo. Buono. Non mi frega un cavolo però di questa roba. Di nuovo un'accetta del cavolo. Sì lo tieni. Ti do un'altra accetta se la vuoi. Per un'altra accetta. Oddio. Cavolo è. Ok. Ultima gay. E poi stacchiamo questo erco video. Allora. Marmor cibo. Non mi serve un cazzo. Spade. Sì. Spade sì. Oh. Dai. Per ultima. Per ultima. Che mi dà. Ah. Adesso aspetto. Adesso ditemi. Qual è la più forte. Ah. Sì sì. Questa è buonissima raga. Perché rallenta l'avversario e dà danno. Perché qui adesso è un safe zone. Quindi non posso fare più pvp. E comunque raga. Io stacco che sono persino le undici. Sto reccando le undici. Perché non faccio video da tanto che sono in vacanza. Quindi ho fatto sto sforzo almeno per voi iscritti. Allora per non mettere il canale proprio di un mese senza video. Quindi io stacco. Lasciate like. Condividete. Iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.